Switch On, incontri ravvicinati del Tecnotipo. Benvenuti a tutti da Roberto Bonini. Oggi parleremo di telefoni cellulari. Il prodotto del giorno è Dorofon Easy 409. Ancora una volta ci troviamo a parlare di un prodotto conosciuto da tutti, stiamo parlando del telefono cellulare. Ma questa volta di una categoria di prodotto rivolta ad un'utenza un po' particolare. Stiamo parlando dell'utenza senior, delle persone anziane. Persone anziane che, ahimè, con l'età accusano qualche problema di vista, qualche problema anche di coordinamento. Un telefono per queste persone deve essere sicuramente avere un display luminoso, un menu molto intuitivo e facile da utilizzare. Deve avere i tasti grandi e soprattutto deve avere la possibilità di avere dei tasti collegati a dei mezzi di emergenza nel caso di bisogno. In questo caso abbiamo un prodotto della Doro, una marca di cellulari da poco attiva in Italia, che ha proprio tutte queste caratteristiche. Come potete vedere ha dei tasti molto grandi, un display molto facile da utilizzare e un menu assolutamente molto semplice, in cui in pochi passaggi si possono fare quelle piccole operazioni che le persone anziane hanno bisogno. Naturalmente una persona anziana non ha bisogno di fare operazioni complesse, come magari i giovani fanno al telefono con i nuovi telefoni di nuova generazione che vengono chiamati smartphone. Soprattutto nella parte posteriore ha un tasto d'emergenza che cliccando e spingendo su quel bottone viene attivata una telefonata ai mezzi d'emergenza. Come al solito noi alla fine di ogni nostra recensione diamo un voto ai prodotti. Per questo prodotto, vista proprio le caratteristiche proprio destinate a questa particolare utenza, diamo sicuramente un 7,5. Grazie a tutti di averci seguito e arrivederci alla prossima puntata. Ciao a tutti da Roberto Bonino.